Non c'era il cellulare, non c'era il fax, non c'era il computer, non c'erano neanche i giocatori americani perché io arrivai al palacanestro per prendere il primo americano e non c'era neanche sto palazzo qui, quindi sai, erano 41 anni fa, ma non ditelo a nessuno. Credo che fuori lì sia un posto molto speciale per giocare al palacanestro, qualcuno di voi lo sa già, qualcuno di voi lo imparerà, però sicuramente scoprirete come il basket faccia parte del DNA della città, perché è sempre stato così. Io ho avuto la fortuna di seguire la mia passione per il basket, di arrivare a fare 15 anni al benettono, 8 anni nell'NBA, adesso 2 anni in Turchia, però sottovoce vi dico che le emozioni che ho vissuto a Forlì, soprattutto su questo campo qui, non le ho vissute da nessuna parte. L'augurio, passo dopo passo, di arrivare a voi, di provarle sul campo e farle rivivere un ambiente che secondo me aspetta solo di essere spinto a vivere questa emozione. Quindi un grosso in bocca al lupo per la stagione. Crefi, grazie mille. Grazie.